Il vice premier Luigi Di Maio interviene sulle voci di possibili finanziamenti russi per la Lega. Poi sto leggendo di audio che parlano di soldi dei petrolieri russi trasferiti alla Lega. Io posso dirvi soltanto una cosa, che ogni volta che sento questa roba sono sempre più orgoglioso del Movimento 5 Stelle, perché noi mai un contatto con finanziatori occulti, petrolieri, altre nazioni per giochi geopolitici sotterranei, noi abbiamo sempre avuto le risorse da voi, da voi che ci finanziavate con piccole donazioni, le abbiamo sempre raccolte, ce le siamo fatte bastare, il Movimento è andato avanti e oggi è al governo. E questo mi rende orgoglioso, a me non me ne frega niente né di chi vende la Coca Cola né di chi vende la vodka, io sono orgoglioso di essere portavoce del Movimento 5 Stelle e di portare la voce dei cittadini e dei loro problemi da risolvere al governo. Un imponente incendio ha colpito lo stabilimento balneare Lide Europa di Viale Kennedy sulla playa di Catania, bagnanti in fuga e tanta paura in spiaggia. Sono un centinaio le persone evacuate via mare, con gommoni e mezzi navali dei vigili del fuoco e della guardia costiera. Una quarantina di bambini che erano rimasti bloccati in altri due stabilimenti balneari e sono stati messi in salvo da moto vedette della Capitaneria di Porto. L'intervento del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici. Secondo l'Istat, il tasso di occupazione a maggio è salito al 59% e il valore più alto dal 1977 da quando sono disponibili le serie storiche di questo indicatore. Sono altrettanto significativi il ritorno a una base occupazionale di 23 milioni e 387 mila unità, il calo della disoccupazione che finalmente si è attestato al di sotto della doppia cifra, la discesa del tasso di disoccupazione giovanile, l'aumento dei dipendenti stabili, misura maggiore di quelli a termine in valore assoluto. Questi dati ci confortano, ma naturalmente siamo coscienti del fatto che molto rimane da fare. Alcuni studi britannici dimostrano che l'astronomia potrebbe fornire nuove armi per la lotta al tumore. Per la precisione sarebbe possibile utilizzare programmi informatici per riconoscere l'impronta di luce del cancro come fosse la luce di stelle e galassie. L'astronomia infatti è una disciplina che si basa prevalentemente sull'analisi della luce e gli stessi software potrebbero essere utilizzati nella diagnosi precoce del tumore della mammella, poiché anche la luce che attraverso i tessuti malati subisce uno spostamento nelle lunghezze d'onda. I ricercatori ora stanno studiando come la luce viene modificata dai tessuti umani, con l'obiettivo di sviluppare un test diagnostico rapido in alternativa alla biopsia. Grazie a tutti.